Ben ritrovati e ben ritrovati, buon inizio di settimana, Rod tu 80k e dunque se già non l'avete fatto iscrivete al mio canale YouTube, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un bel like al termine di questo contenuto. Salernitana 1, Juventus 2, il giorno dopo, per quanto riguarda l'analisi del match vi invito a ripescare il contenuto che ho fatto ieri sera, un po' pepato nei confronti di Kostic perché il gol preso ancora non mi va giù, è un replay, una sorta di concorso di colpe, poi di Frosinone e quindi bisogna alzare l'attenzione, non essere superficiali perché se decidi di giocare in determinata maniera i gol che la Juventus ha preso recentemente non si possono prendere. Punto, però dobbiamo partire dalla classifica perché ieri è terminato il girone d'andata, un ottimo girone d'andata per la Juventus, caratterizzato da 46 punti in 19 partite, quindi 14 successi, 4 pareggi e una sola sconfitta contro il Sassuolo, prossimo avversario in campionato all'Allianz, partita che già temo ma prima ce n'è un'altra, come ben sappiamo, questo giovedì si giocheranno i quarti di Coppa Italia con il Frosinone, gara secca. La riflessione è semplice, la Juventus ha dichiarato costantemente fin dalla tournée statunitense di come l'obiettivo stagionale fosse qualificarsi in Champions. Eccoci. Ora, aiutatemi voi con la matematica perché io sono altamente negato, però credo che con sei successi e due pareggi la Juventus sarebbe nell'Europa che conta. Deve davvero accadere l'imponderabile affinché la Juventus proponga un ruolino di marcia all'insegna della regressione che possa mettere in difficoltà eventualmente questo obiettivo. No, l'obiettivo ormai è centrato perché basta davvero il minimo sindacale per arrivare a qualificarti aritmeticamente anche in relazione al fatto che la quarta, la Fiorentina, si ha 33 punti, quindi a distanza siderale. Non parliamo nemmeno di Atalanta, di Roma, che hanno pareggiato, dopo arriviamo perché anche su questo tema voglio fare una riflessione su Dinausen, Lazio, Napoli in grandissima crisi, con un altro KO coccente, questa volta con il Torino, quindi Inter e Juventus per quanto riguarda l'obiettivo Champions. Ci sono abbondantemente, il Milan per me non avrà problemi a centrarlo. Per il quarto posto vediamo cosa succede perché c'è il Bologna che sta perdendo un po' di colpi, la Fiorentina era stata abbastanza lineare perché prima di essere sconfitta da Sassuolo ne aveva vinte tre di fila. Quindi il primo ragionamento da fare in questo lunedì 8 gennaio è di natura proprio obiettivo, cioè non mi sembra roba di poco conto, nella maniera più assoluta perché se dichiari, ti esponi che devi entrare in Champions, che rappresenta l'obiettivo stagionale, si può dire che con il girone d'andata la Juventus questo obiettivo non lo ha aritmeticamente centrato ma lo ha messo lì in caldo e con un andamento proprio di pura dignità lo va ad abbracciare. Ed è fondamentale, fondamentale specialmente per rinforzare la squadra in vista dell'estate mercato 2024 con la Juve che deve fare tante cose, non dobbiamo farci ingannare da questi 46 punti, lo dico sempre. Anche un po' la partita di ieri lo ha fatto capire, cioè la Juve è gruppo vero, si aiuta quando sembra che non possa portare a casa le partite in qualche modo ce la fa, però sta gettando davvero il cuore oltre l'ostacolo. Tra i protagonisti della partita di ieri c'è Wes McKennie che sta disputando una grandissima stagione e manca ancora il gol. Ecco, la particolarità dell'annata di Wes è che ha imparato a fare tutto ma ha disimparato un pochettino a fare il gol. Perché l'occasione che ha di testa in avvio di ripresa ieri è un'occasione che il vecchio Wes l'avrebbe messa dentro. Poi non avrebbe fatto tante altre cose, probabilmente non avrebbe avuto questa forma fisica, questa affidabilità perché è solamente chapeau per quanto sta facendo il jolly statunitense. E su di lui la Juventus ha le idee chiare, provare a rinnovare il contratto ed è doveroso che sia così ragazzi perché Wes va in scadenza il 30 giugno 2025. Ha 25 anni, sta dimostrando di poter essere sul pezzo io credo che trovare un'intesa abbracci proprio ciò che si debba fare. Poi non sappiamo se McKennie possa essere sinonimo di progettualità, se possa ambire ad altre cose e di certo, basandoci sulla meritocrazia, su coloro che in questa stagione stanno incidendo e beh, Wes è cosa giustissima provare a rinnovare il contratto anche perché la scadenza è la stessa di Federico Chiesa, è la stessa di Ealing, quindi bisogna essersi attorno a un tavolo, intensificare, ma i segnali che ho avuto proprio ieri al termine della partita specialmente nella zona America vanno in questa direzione, cioè si avvierà un dialogo e poi vedremo a cosa porterà. Le trattative non le faccio io, non le fate voi, noi raccontiamo cosa succede e ci sono stati dei contatti che portano a pensare che a febbraio si possa intensificare questo dialogo, questa trattativa, però bene, bene, bene Wes in quest'annata speriamo che possa ritrovare la via della rete che è fondamentale, fondamentale per lui ma sposta tanto come proiezione su ciò che poi la Juventus potrebbe vivere nel giorno di ritorno perché io non so quale sia il vostro pensiero ma sono fermamente convinto che la Juventus abbia ancora grandi potenzialità. Nella manovra offensiva, nella continuità di Vlaovic speriamo in quella di Chiesa, nell'esplosione di Ildiz e l'inserimento di Nonget. Io oggi pomeriggio voglio dedicare, ve lo giuro, 3 o 4 minuti a questo ragazzo perché anche ieri che è entrato l'ottantesimo ma ci rendiamo conto di come tocchi la palla? Qualitativamente parlando, questo è già uno dei più forti della Juve, prima squadra poi ha 18 anni, classe 2005, deve fare un percorso ma ieri, a parte quando sbaglia, che secondo me doveva darla addosso a Vlaovic invece ha cercato la profondità, ha fatto due o tre cose di livello che portano a pensare che anche questo possa diventare calciatore vero con determinati step e non è un caso che la Juventus, nelle puntate precedenti, lo abbia blindato fino al 30 giugno 2026 ma occhio a sottovalutare i 15 minuti che ha fatto Nonget con la Salernitana e mi piacerebbe che possa avere magari un maggiore minutaggio in Coppa Italia con il Frosinone chiusura doverosissima con Dinausen perché ieri la partita alle 18 con la Salernitana mi ha consentito, ma un po' penso a tutti gli amanti del calcio di guardare l'esordio di Dina con i giallorossi, con la Roma è accaduto nella ripresa perché ha preso il posto di Llorente che si è fermato per un problema se non lo sbaglio a Linguine e Dina ha fatto un partitone, ha fatto un partitone perché subito ha mostrato un grande feeling a livello di lanci con Lukaku 3-4 palle in verticale, Degnino ha giocato a destra, non a sinistra ma lui è talmente bravo con il sinistro che sembra che sia Mancino ma nasce destro e ambidestro e secondo me là lo vedremo spesso e volentieri ma in generale Mourinho lo farà giocare sovente, sinistra, destra, al centro la Roma se si è fatto male anche il Llorente ora ha disperato bisogno di puntare su di lui perché c'è Indica in Coppa d'Africa, Smalling non si sa quando rientra Mancini pare che conviva con la pubalgia e quindi non è che hanno altre soluzioni ma tanta roba, l'ingresso di Hausen, leggevo questa mattina i giornali soprattutto quelli di Sponda Capitolina il voto in pagello oscillava tra il 6,5, base per tutti nessuno è andato sotto il 6,5, fino al 7 ha avuto anche due o tre situazioni pericolose da fermo perché lui è un giocatore prestante essendo 1,93-1,94 però 18 anni, 2005 ricordiamo che la Juventus lo ha dato in presito secco perché in tanti mi hanno scritto ieri ma non è che poi rischia di rimanere a Roma, no, non ci sono opzioni poi, tutto può succedere nel mercato ma con il valore che è destinato ad avere Hausen non vedo come la Roma possa formulare l'offerta come possa neanche pensarla perché qualcuno mi dice ma magari si innamora di Murigno, si innamora di Roma, si innamora della piazza tutto può succedere ma poi c'è un contratto, 30 giugno 2028 c'è un valore di mercato e io credo che la Juventus punti su questo ragazzo e ha fatto bene a darlo alla Roma rispetto al Frosinone e io ho cambiato opinione nell'arco dei giorni perché giocare a Roma come ha fatto ieri davanti a 70.000 spettatori ti fa crescere rapidamente allenarti quotidianamente con Dybala, con Lukaku poter imparare da Mancini da altri giocatori navigati secondo me vale molto di più di ciò che avrebbe potuto poi vivere magari con maggiore minutaggio ma non sono neanche convinto perché al Frosinone sicuramente avrebbe giocato ma anche qui gioca perché dietro la Roma è in pienissima emergenza comunque grandissimo debutto ed è musica per le orecchie di una Juve che da quest'operazione incassa 700.000 euro per il presito che diventerebbero 500 qualora Hauser, come avevo già raccontato dovesse maturare 10 presenze complessive fino al termine della stagione quindi direi altre 9 perché una, quella di ieri è ormai già a Marcord mi raccomando e dopo parliamo di Nonget ma anche un po' di mercato perché la Juve in settimana ha tutta la sensazione la percezione la voglia e la determinazione di chiudere per Tiago Jalot è un po' di mercato